Massimizzare i ricavi degli hotel grazie a un algoritmo proprietario basato sull'intelligenza artificiale. Questo è ciò che fa LibraTech, startup del portafoglio di L-Venture Group, lanciata all'ultimo demo day della holding di partecipazioni, che investe in startup digitali ad alto potenziale di crescita. Una startup unica nel suo genere, come spiega il CEO di LibraTech, Fulvio Giannetti. Libra è un software di revenue management per hotels avanzato, basato sul machine learning. La nostra specificità è che siamo proprietari dell'acquisizione dei dati e riusciamo a fornire agli hotel un flusso dei dati sia del mercato che analizzando anche i dati locali dell'hotel in real time, dando loro la possibilità di ottimizzare i ricavi ogni giorno in qualsiasi momento. La specificità di questo software è la capacità di adattamento del sistema, come spiega appunto Giannetti. Libra è un sistema innovativo, costruito con le più moderne tecnologie, soprattutto, come dicevo prima, è basato sul machine learning. Significa che comunque riesce ad adattarsi nel lungo periodo alle strategie e alla modalità operativa dei revenue manager, che sono le persone che si occupano appunto di questo particolare aspetto della vita dell'hotel. Libra è inoltre molto veloce nel setup. L'hotel può usare Libra già dal giorno successivo alla richiesta di attivazione. Queste due cose combinate rendono Libra assolutamente un prodotto unico sul mercato al momento. Libra Tech ha inoltre notevole potenziale di sviluppo, come conclude Giannetti. Noi siamo già in sette paesi, siamo in Portogallo, Italia, Croazia, Russia, Grecia e Francia. Il prossimo passo è consolidare innanzitutto la nostra presenza su questi paesi specifici e espanderci prossimamente in Germania e Spagna. Grazie. Grazie.